Cisano sul Nevo ha un grande obiettivo quello di una nuovissima palestra, tra l'altro un'opera che può racchiudere anche un po' il cuore dello sport in tutto il comprensorio. Ma a che punto sono i lavori? I lavori sono per le opere in calcestruzzo, in cemento armato tradizionali, tutte le fondazioni saranno pronte entro la fine di questo mese in modo che possa arrivare la parte in legno lamellare con gli assemblaggi che pensiamo intorno al mese di ottobre. Sicuramente siamo ben messi con i tempi, pensavamo fosse più lunga, invece ci sono buone possibilità di accorciare anche l'iter costruttivo. Va bene, siamo molto contenti dell'impresa che si è aggiudicata ai lavori, che realmente sta compiendo questo lavoro in tempi serratissimi. E di questo noi ne siamo contenti perché pensiamo che il prossimo anno nel Festival dell'Audor ci possa essere l'inaugurazione di questo spazio che ovviamente sarà il fiore all'occhiello dell'amministrazione di Cisano, un'opera che servirà prima di tutto per la scuola perché consideriamo la scuola sempre il punto nevralgico, il centro di tutta una collettività e insieme allo sport possa diventare anche un modo per comunicare dei valori positivi alle nuove generazioni che ne hanno abbastanza bisogno in questo momento. Pensiamo che questi siano veramente i centri nodali da cui può migliorare anche il senso di appartenenza a una collettività, l'educazione civica e tutto un insieme di cose che noi reputiamo importanti. La palestra avrà dunque, non solo sarà un punto importante per i nostri alunni, ma sottolineerà ancora di più lo sport al centro della vita di Cisano. Sempre parlando di sport, tra l'altro Cisano lo ricordiamo anche un bel campo da calcio che tra l'altro adesso è utilizzato anche da Albenga, un'idea anche in questo senso di creare sempre di più una visione comprensoriale del territorio? Ma assolutamente sì, di concerto alla nuova proprietà dell'Albenga e anche all'amministrazione comunale di Albenga, abbiamo pensato che Cisano essendo nell'immediato introterra ed essendo un paese confinante abbia anche il ruolo di aiuto e di ausilio ad Albenga. Abbiamo dato il campo che è un'eccellenza, anche quella del nostro comprensorio, all'Albenga in attesa della preparazione dell'Annibale Riva. E pensiamo che da questo possa scaturire e iniziare anche un progetto di società comprensoriale di calcio, ma non solo di calcio, che possa essere anche utile a tutti i comuni dell'entroterra, che magari sono in difficoltà per far arrivare i loro ragazzi ad Albenga a giocare. Allora abbiamo pensato che costituire una società importante possa essere un bel biglietto da visita, non solo per Albenga, ma per tutti i comuni dell'entroterra, che come noi confiniamo con Albenga, per dare un servizio in più alla collettività e per fare in modo che di nuovo, e mi ripeto, e non smetterò mai di ripetermi su questo tema, lo sport possa servire sì come azione ludica nei confronti dei ragazzi, ma lo sport insegna anche dei valori che sono molto importanti al giorno d'oggi, anzi direi epicentrici a una collettività. Questo noi reputiamo insieme all'amministrazione di Albenga. E da qua partirà un cammino che ci vedrà insieme, e insieme ovviamente alla nuova dirigenza dell'Albenga, per dare a questo comprensorio una società che possa essere un punto di riferimento e lustro di questo territorio.